Ricordiamolo che la sostenibilità ha tre dimensioni, non c'è solo quella ambientale, ma c'è anche la sociale e c'è l'economica, perché anzi senza la sostenibilità economica le imprese non stanno in piedi e non possono essere green, quindi la sostenibilità sociale ed economica sono i due pilastri, le due gambe su cui cammina la sostenibilità ambientale. E questo ci porta a Giovanni Ronca di Unicredit, che della sostenibilità economica per i suoi clienti, per le sue imprese clienti, grazie al supporto continuo che verso le imprese con mille iniziative che abbiamo sentito stamattina dal Presidente, le sostiene verso l'accesso al credito e quindi la sostenibilità economica, che consente anche di investire su nuovi progetti di sviluppo. Ecco Ronca, cosa vedete dal vostro osservatorio sull'economia reale su questi temi? Grazie. Partirei facendo riferimento a due cose che ho sentito dire stamattina, da uno dal Presidente Abete in particolare, dicendo che la banca è un'impresa, per cui rispondendo alla sua domanda partirei dal punto che cosa Unicredit fa come impresa, in primis. Allora, se andate sul sito istituzionale della banca c'è una pagina che dice una banca sostenibile e uno si aspetta che sotto vengano descritti 14 pozzi artesiani che ci sono sotto questi grattacieli con le pompe di calore, piuttosto che i pannelli solari, piuttosto che l'uso della carta riciclata. Invece no. C'è scritto Unicredit, è un gruppo, un grande gruppo bancario paneuropeo, con un modello di business basato sul concetto di banca commerciale semplice e con una divisione di investment banking completamente messa a servizio al mondo delle imprese. In maniera semplice. Per cui, in realtà, soprattutto per le piccole e medie imprese, fare banca vuol dire trasmettere semplicità, e questo per organizzazioni molto complesse come le grandi imprese non è automatico, risolvendo alcuni problemi o facilitando il lavoro di imprese. Nel passato la finanza in generale ha aggiunto rischio di impresa alle imprese, piuttosto che toglie. Ci sono tanti esempi speculativi in questo paese, negli Stati Uniti, in generale per il mondo di una finanza che aggiunge complessità e rischio di impresa. Questo non è una finanza sostenibile, evidentemente, perché poi molti nodi vengono al pettine e le conseguenze si pagano in maniera visibile anche dal punto di vista economico. Ora, fare banca per il futuro vuol dire aiutare le imprese a diminuire il loro rischio di impresa, portandoli all'estero, offrendo gli strumenti informatici che facilitino il loro lavoro, investendo probabilmente in piattaforme tecnologiche che le piccole imprese possono prendere e utilizzare, questo facilita la sostenibilità. Dunque, se si guarda la banca sostenibile, è la banca che si limita a fare il suo lavoro per le cose che contano per l'economia reale. Le grandi banche hanno attaccate nel loro business divisioni e unità di cosiddetto investment banking, che è un business che rimane molto importante, ma questo oggi in prospettiva ha senso, sicuramente per un e-credit, se è collegato all'economia reale. Per cui il modello non va, secondo noi, se vuole essere sostenibile, verso una cosa fine a se stessa e chiusa nel mondo della finanza, che si chiama speculazione, che si chiama ottica di brevissimo termine. Poi, sappiamo tutti che la velocità dei mercati è molto diversa da quella degli esseri umani, per cui bisogna bilanciare le aspettative da una parte e dall'altra. Ma la nostra mission, perlomeno, anche così come è scritta sul nostro sito, è molto chiaro da quel punto di vista. Bene, grazie.